ingresso in campo subito energia la squadra una grande assist per coda come è stata la tua partita beh se avessi fatto quello forse da 10 però è stato importante anche a fare un assist è stato importante entrare entrare colpiglio giusto perché erano 450 minuti che non giocavo ho voglia di giocare al di là di dimostrero meno io da ritiro che cerco sempre di dimostrare oggi bene o male ho fatto capire che ci sono perché forse qualcuno si era dimenticato di me però va bene così peccato per il pareggio perché secondo me alla fine potevamo vincerlo in ritiro si è stato provato largo in un centrocampo a quattro oggi sei subentrato a donnarumma in attacco dov'è la posizione dove ti trovi meglio meglio in campo beh io sono un esterno d'attacco su un 4 3 un 4 4 2 la seconda punta l'ho fatta la posso fare perché c'è le qualità fisiche atletiche nel poter fare poi certamente sempre allenatore che decide dove mettermi possiamo dire che per la trasferta di ascoli caccavallo è pronto io sono pronto da tre mesi quindi quindi sempre aspetto sempre il momento giusto e certamente tutti vorrebbero giocare fa male non giocare fa male non subentrare poter dare una squadra oggi ci sono riuscito volevo fare gollo sotto alla curva perché per me lasciare un segnale in questa piazza è importante ci tengo perché è stata la prima scelta e voglio veramente dare un contributo a questa squadra